Avete mai visto un pagliaccio in copertina? No, non sto parlando dell'ultimo numero di Vita da Circo, ma di qualcosa che ha scatenato un vero e proprio tornado sui social. Sedetevi comodi, perché oggi vi racconto la saga di Chiara Ferragni contro il colosso editoriale L'Espresso. E vi avverto, è più avvincente di un episodio di Gomorra. Immaginate la scena, una tranquilla mattinata, un caffè in mano, e bam! Chiara Ferragni trasformata in Joker sulla copertina di L'Espresso. Ma non parliamo di un travestimento per Halloween, è. Parliamo di una rappresentazione simbolica, densa di accuse e insinuazioni su una rete societaria intricata, partner ingombranti e dipendenti sottopagati. L'empireo digitale della Ferragni descritto come un teatro dell'assurdo, dove la trasparenza gioca a nascondino. E come in ogni buon dramma, non manca la risposta del protagonista. La Ferragni, tra un post e l'altro di outfit e sponsorizzazioni, scaglia i suoi legali contro il settimanale. Si parla di azioni legali, di risarcimento, di diffamazioni. Insomma, una vera e propria dichiarazione di guerra al giornalismo irriverente. Ma ad Armanforte alla Ferragni arriva il suo fedele scudiero, Fedez, che, in perfetto stile e cavaliere oscuro, non esita a sollevare dubbi e perplessità sulla figura dell'ombroso proprietario di L'Espresso, donato a Maturo, invitando a un'inchiesta sul suo conto. E come ciliegina sulla torta, posta una foto di Ammaturo con il viso truccato da pagliaccio, accompagnata da un testo carico di ironia e sarcasmo. Intanto, l'inchiesta milanese sui vari affari commerciali della coppia, dall'accusa di pubblicità ingannevole fino alle analisi sui follower, continua a tenere banco, gettando ulteriore benzina sul fuoco. E per chi pensava che una copertina potesse affossare l'impero Ferragni, ecco la voce fuori dal coro di Selvaggia Lucarelli, che con una pennellata di saggezza ci ricorda come il potere sia in grado di trasformare anche le critiche più, amare i medagli al valore. In conclusione, amici, che siate fan sfegatati o critici accaniti, una cosa è certa, il mondo di Chiara Ferragni non smette mai di regalarci colpi di scena degne di un blockbuster. E chissà, forse la prossima volta la vedremo in copertina vestita da Batman, pronta a difendere Gotham City, Ops. Volevo dire, il suo impero digitale. Lasciate un like se vi è piaciuta questa folle avventura e iscrivetevi al canale per non perdervi il prossimo episodio di Nascese e Cadute nell'Influencer Marketing. Passiamo il canale per arrivare. uno dei suoi per fuori dotare è stato diventato verso gli roti del espresso. Grazie a tutti.